Buongiorno! Caro Napoleone, vuoi un materno sicuro? Buongiorno, ragazzi! E allora giuocati! Avanzamento, aumento di stipendio e la rabbia! La rabbia che si mangia qualcuno! Io me la rido! Bravo il signor Coca-Cola! Il signor Colabona ha tolto la mia poltrona! Ha fatto, come suol si dire, il colpetto di Stato! No, no, io non ho fatto nessun colpetto!